... Appuntamento delle 7 del mattino con l'informazione. Buongiorno, buon fine settimana. Oggi siamo a sabato e anche di sabato c'è la lettura dei giornali, c'è il commento alla stampa del giorno con il resto del Carlino e Corriere Adriatico. È partita la diretta anche su Facebook, non so se sentite. Allora, andiamo a vedere il santo di oggi e poi il tempo. Il santo oggi è San Fedele, tra i vari e tanti santi che la Chiesa ricorda oggi. 6.12 l'alba e 20.06 il tramotto. Godiamoci queste giornate con l'anticiclone, il clima che sarà un po' più caldo, salvo ultime piogge al sud, ma durerà poco perché l'inizio della settimana prossima arriveranno le piogge, ma noi ci accontentiamo di questo sabato e domenica, anche se siamo in zona ancora arancione, quindi con limitati spostamenti. Ecco qua la Regione Marche per la giornata di oggi, vediamo quella di domani. Domenica è anche festa, domani San Marco con la festa della liberazione. Ancora domani mattina, pomeriggio e sera, Marche completamente soleggiate, ma è lunedì, lunedì pomeriggio soprattutto, che arriva il cambiamento del tempo con la pioggia, vedete in questa grafica di trebimeteo.com. Allora, sul lunedì intanto ritorniamo in zona gialla, che non significa, come ribadiscono ormai sempre e spesso, un libera a tutti, nel senso che si può tornare a fare quello che ci pare, ma in realtà ecco, la zona gialla ci permette un pochettino di fare le cose, ma senza il pensiero di dover beccarci una multa, perché poi di fatto le cose le facciamo lo stesso, uno si sposta lo stesso, eccetera, però c'è sempre il pensiero di essere fermato, di non essere in regola, eccetera. La zona gialla ci toglie un po' questi pensieri. Allora, andiamo a leggere i titoli delle prime pagine. Questo è il resto del calino. Come vedete, la prima pagina è sul coprifuoco. Sul coprifuoco si sta discutendo molto in tutta Italia, dire il vero, perché il Governo ha deciso di mantenerlo, almeno per le prossime settimane, dalle 22 fino alle 5 del mattino, ma tutti sono, quasi tutti, dell'idea che questo coprifuoco è assurdo. La rabbia dei ristoratori così è dura rieprire. Mentre poche dosi, stop vaccini per tre giorni, ancora rallentamenti, dunque il ristò, che è l'hub principale di Pesero, quello che sta dentro il centro commerciale, resterà chiuso martedì, mercoledì e giovedì. Perché? Perché non ci sono i vaccini. Nazionale interrata, Ricci, un sogno che si può realizzare. Largo Aldomoro, il sindaco rilancia. Ricci che sarà con noi lunedì sera a Primo Cittadino. Poi c'è un'altra polemica sulle frasi scritte da Filisetti, che è responsabile della scuola a livello marchigiano, sul 25 aprile. Comunque Filisetti, dirigente, che finisce ancora sulla graticola. Poi sulla questione dei locali all'aperto, insomma ci sono molti dubbi da parte chiaramente dei baristi, dei ristoratori, su che cosa significa mangiare all'aperto. Cioè chi ha le strutture che potrebbero non essere idonee. Ecco, allora molti chiedono delucidazioni. Possono lavorare i locali con verande e terrazze. Quindi verande e terrazze sono considerate locali all'aperto. Devono essere aperte su tre lati, in sostanza. Accusa la casa di riposo. Mio padre morto era malnutrito. La cronaca sul Carlino. Poi scuola, i trasporti garantiscono il 60%. Per gli altri mezzi fai da te. E si torna in giallo. Loro ufficiale le marche riaprono da lunedì. Marta Filippini, invece, la partigiana internazionale, urbinate classe 1899, ha combattuto in Spagna. In Belgio rubò addirittura esplosivi. Poi a Fosso Signore, branco di cinghiali sulla Statale. Una trentina ne sono stati avvistati. Un camionista racconta hanno attraversato verso il mare. E ha avuto, dice lui, ho avuto paura. La fotonotizia, invece, del Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, è sempre per i ristoratori. Il ristorante, sperando che non piova, la guida a chi apre lunedì in città. Ricordiamo che si potrà andare da lunedì al ristorante soltanto all'aperto. Non si può cenare dentro. Quindi i ristoratori sanno già che non possono apparecchiare dentro il ristorante, ma solo all'esterno. Mentre Ricci annuncia una nuova ruota panoramica. Annuncia l'attrattiva al posto della rotatoria di Piazzale d'Annunzio. L'accordo è stato fatto con un privato. Il carico da 90 interriamo la Statale tra Viale della Repubblica e Largo Aldomoro. Facciamo così un super viale. Sotto altre notizie in breve. Anche qui di taglio basso la baby gang di Piazzaredi sempre a Piazzaro, denunciati due ragazzini, pugni, minacce e teppismo e un tentativo di furto. Allora, le marche in zona gialla. Ripartiamo da qui e ripartiamo dal Corriere Adriatico. Dall'udì si torna dunque in zona gialla. L'ufficialità è arrivata ieri dalla cabina di regia a Roma. Il ministro Speranza ha chiamato Acquaroli al telefono. Gli ha detto, Francesco, sei in zona gialla. Chiaramente questo non significa liberi tutti. Perché? Perché ci sono ancora cinque comuni. Quattro nella provincia di Piazza Urbino e uno nella provincia di Ancona che sono in zona rossa fino a domani, fino al 25, quindi domani fino a mezzanotte. Sono Urbi, lo ricordiamo, Acqualagna, Vallefoglia, Montelabbate e Tavuglia. Mentre in provincia di Ancona c'è Cerreto Desi. Ora, in questo momento è il pesarese, la nostra provincia, la provincia di Piazza Urbino, sotto la lente dell'osservatorio epidemiologico regionale dove il Covid sembra avere accelerato in alcune realtà. Mentre nel resto del territorio diciamo che le cose stanno andando un po' meglio, come scrive Maria Teresa Bianciardi sul Corriere. Resta invece alto ancora il numero dei decessi. Sono 70 invece pazienti con il coronavirus che in questo momento sono in rianimazione. Però la cabina di regia, dicevo, ha certificato che l'indice di contagio è sceso nelle marche a 0,69 contro lo 0,90 dell'ultima rilevazione. Quindi questo è un dato importante. Però c'è la percentuale dei tamponi positivi che purtroppo nella nostra regione è in aumento e supera il 10%. Per questo motivo la regione ha deciso di tenere sotto controllo, attenzione, i contagi in tutti i comuni del territorio predisponendo anche zone rosse a macchia di leopardo e soprattutto laddove la diffusione del virus potrebbe sfuggire ai controlli. Si conferma poi la lenta discesa dei nuovi casi e del numero dei pazienti ricoverati, ma il quadro complessivo nelle marche resta ad un livello critico. Dunque, che cosa è fondamentale fare? Che la popolazione, si legge in questa nota della cabina di regia, che la popolazione, cioè noi, la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie. Tradotto da lunedì, che cosa significa? So di rendermi un po' antipatico, soprattutto dagli amici ristoratori, ma è chiaro che le reimpatriate, le tavolate di amici, queste cose qui, dimentichiamocle, perché se no ripartiamo da capo. È come il giro dell'oca, devi ripartire dall'inizio. È chiaro che questo non è possibile. Quindi, quando parliamo di andare a cena, e magari lunedì ci sarà anche una bella serata o martedì, una bella serata anche se poi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì piove, quindi scordatevelo, ma almeno il prossimo fine settimana potrebbe essere una cosa da fare, ma portate a cena la fidanzata, portate a cena il fidanzato, e evitiamo le rimpatriate o cene comitive e quant'altro, perché altrimenti non ne usciamo vivi. Ristoranti sono aperte, la regione scioglie i dubbi, sia porticati e verande. L'assessore Gherloni è stato ieri tempestato di telefonate e messaggi, anche i suoi uffici in regione, perché molti chiedevano io ho un gazebo, è aperto soltanto, ha solo una finestra? No, ne ha tre, sì. Allora, le strutture devono essere aperte su tre lati, slitta il ritorno dei centri commerciali anche nei fine settimana. Ecco, questo in realtà, lo stesso ha creato molte polemiche, addirittura qui si dice è bufera, bufera nel senso che i centri commerciali nel fine settimana dovranno rimanere necessariamente chiusi, e nei centri commerciali dentro ci sono anche altre, ci sono le catene, i franchising, non c'è solo il supermercato che vende il latte o i generi alimentari, ci sono anche altri negozi. Quelli resteranno chiusi e questo chiaramente viene visto come una penalizzazione forte. C'è anche questa polemica sul fatto che il coprifuoco, come abbiamo visto, è fino alle 22 e non, per esempio, alle 23, ecco, non so, questo è un po', anche questa è una restrizione, è un vincolo che sta facendo storcere il naso soprattutto ai giovani, che non sono abituati a uscire di casa presto, solitamente in tempi normali, prima del Covid, i giovani uscivano a mezzanotte, quindi figuriamoci farli entrare alle 10 di sera. Allora, dicevamo, viene considerata all'aperto, ecco, viene considerata all'aperto una struttura che abbia almeno aperto tre lati, un dehors, un loggiato, un porticato, una veranda, ecco, se tutte queste strutture sono aperte, almeno su tre lati, possono essere considerati all'aperto. Ora, sulla pagina 5 del Carlino si parla dei vaccini questa mattina ed è un articolo interessante che voglio sottoporvi, perché? Perché viene, come dire, sottolineato il fatto che questi vaccini sono già efficaci dopo una dose, dopo una dose. C'è uno studio, ecco, questo è importante, basarsi sui dati, e così crollano i contagi. Gli inglesi, dicono, parlano di pericolo ridotto di due terzi dopo una sola somministrazione e l'EMA conferma. AstraZeneca poi è sicuro. Dunque la tanta agognata immunità di Greggio potrebbe essere meno lontana del previsto, scrive Giulia Prosperetti. Poi c'è un'altra cosa importante che io anzi sottolineerei di rosso, non solo di giallo, che è questa. L'Unione Europea libera di fatto gli immunizzati. Cosa significa? Cioè nelle nuove linee guida dell'Unione Europea, in queste linee guida, tutti coloro che hanno la doppia iniezione possono incontrarsi senza mascherine e distanziamento. E questo chiaramente va in una direzione diametralmente opposta a quella cui eravamo abituati fino a qualche tempo fa. Fino a qualche tempo fa, anche da qui abbiamo spesso ricordato, letto, che anche i vaccinati dovevano mantenere la mascherina, mantenere le distanze, dovevano fare praticamente tutto quello che fanno quelli che non sono vaccinati. Quindi la differenza era poca. In realtà oggi, forse può essere visto come un incentivo, forse a vaccinarsi, sicuramente sì. E quindi l'Unione Europea dice in queste luni guida chi ha fatto il doppio vaccino, chi è a posto con il vaccino, può incontrarsi senza mascherine e senza distanziamento. Anche qui si aprono fronti comportamentali di quelli che, insomma, andrebbero... se mi si avvicina una persona o lo scrivi da qualche parte che si è vaccinato oppure io ti allontano se non lo sono. Capite che fare questa distinzione, sì, uno può essere contento, ma poi c'è sempre un discorso relazionale che va tenuto conto e è un discorso di... è un po' difficile, insomma. Non lo so, bisognerebbe riflettere ancora un po' meglio. Ma intanto c'è l'autority che sul Green Pass che è quel famoso foglio, quella tesserina che forse ci daranno per poterci muovere, per andare in vacanza, eccetera, eccetera, l'autority ha inviato un avvertimento formale al governo italiano dicendo, guardate, che la norma che avete appena approvato, che prevede appunto questo pass vaccinale, non va bene. E allora, che cosa significa questo? Significa che questi pass vaccinali potrebbero essere in qualche modo bloccati. se il governo non modificherà questa legge sulla privacy, perché? Perché viola i diritti e soprattutto la libertà delle persone. E io su questo, al di là della privacy che tanto non esiste in nessun modo, è solo una cosa formale, tanto per produrre carta, ma sulla libertà delle persone invece questo sì. la libertà delle persone è importante e c'è questo articolo che vi segnano sul resto del Carlino, poi chiaramente si andrà nella direzione in cui il governo recepirà questo documento del garante e quindi farà le opportune modifiche perché altrimenti non si può mettere in discussione tutta questa roba qua. E quindi alla fine sono una questione di tempo. Mentre continua a far discutere quel medico a Falconara, quindi siamo qui nelle Marche, che ha addirittura 40 perché ieri erano 30, oggi si evince che sono una quarantina di pazienti che al posto di inoculargli il vaccino, Pfizer piuttosto che AstraZeneca, gli ha inoculato acqua fresca, l'acqua, l'acqua fisiologica. E questo è il medico che in questo momento è diciamo sotto i riflettori lui si difende e dice non è assolutamente vero, però questa mattina sul giornale si legge che è salito il numero di queste persone beffate, chiaramente dovrà spiegare il perché lo ha fatto, per quale ragione, tra l'altro è un medico che ha fatto i vaccini anche in un centro autorizzato, quindi oltre che nel suo ambulatorio oppure a casa, a casa dei pazienti. Ora sono 40, ci informa il resto del carino, la squadra mobile ha trovato le liberatorie, centralini della questura bersagliati di telefonate e già ascoltata una decina di pazienti. e adesso c'è incertezza anche sulle dosi perché ne stanno arrivando poche, abbiamo detto tre giorni sarà chiuso, i prossimi giorni sarà chiuso anche il centro di Pesero perché non c'è la possibilità di farli e quindi è stato cancellato lo slot 60-64 anni, quindi se siete in questo range tra i 60-64 anni per il momento è tutto bloccato, doveva scattare tra due giorni e in realtà dalla piattaforma della regione scompare l'invito a prenotarsi perché? Perché appunto non ci sono i vaccini e anche il carlino pagina 5 di Pesero vaccini con il contagoccio e il ristò chiuderà per tre giorni martedì, mercoledì e giovedì non ci saranno somministrazioni per la carenza di dosi a Muraglia invece oggi e domani sono in programma i richiami per 1800 diabetici. Su questo torniamo a parlare del coprifuogo perché? perché il carlino il carlino di Ancona ha intervistato uno chef stellato che è Enrico Recanati chef stellato di Andreina che è una trattoria a Loreto uno dei ristoranti insomma un ristorante più rinomato delle marche lui dice alle 22 i clienti non posso mandarli via e quindi è durissimo Andreina cioè Enrico scusate Recanati sul coprifuoco e anche sul resto falsa ripartenza dice una batosta per chi fa sacrifici poi l'osteria invece che non si lamenta che invece fa una cosa secondo me anche folcloristica divertente che sicuramente piacerà andiamo a vedere questa storia a Castelfidardo l'osteria che non si arrende la cena sì fuori con 11 gradi i nostri clienti in tutta da sci Camilla Ornos e Moreno Cantori hanno organizzato neve finta e addirittura dei braceri ed è già tutto esaurito qui invece ci facciamo un po' più seri perché la storia che racconta il carlino a pagina 9 riguarda la morte di una persona che viene raccontata da un figlio mio padre morto per negligenza non ha avuto alimenti per giorni la denuncia dicevo di un figlio per il decesso dell'anziano genitore ospite della casa di riposo di Sasso Corvaro la direttrice dice rigettiamo totalmente le accuse abbiamo accudito e assistito il paziente fino all'ultimo branco di cinghiali sulla statale a Fosso Signore hanno attraversato la statale adriatica diretti verso il mare un camionista si è bloccato erano racconta lui una trentina e ho avuto paura poi si denuda davanti a una scuola il liceo Mengaroni di Pesaro denunciato un esibizionista di 40 anni operaio tossicodipendente che si stava masturbando di fronte al liceo artistico Mengaroni qualcuno lo ha visto ha chiamato il 113 mentre un incidente ieri pomeriggio nel centro di Villa Fastigi un'auto che fa manovra uno scooterista ci sbatte contro è grave un incidente che è avvenuto alle 15.30 nel centro di Villa Fastigi uno scooter diretto verso Pesaro guidato da un 38enne residente a Pesaro si è scontrato con una panda contro mano con alla guida una donna intenzionata ad entrare in retromarcia nella proprietà che si trova alla sua sinistra e poi la morte di un imprenditore di Monte Grimano si chiamava Aldo Mattei è morto ieri a 94 anni i ragazzi violenti di Piazza Redi a Pesaro denunciati in due hanno 17 anni pugni minacce tentativo di furto ora indaga la procura dei minori di Ancona i residenti di Piazza Redi a Pesaro chiedono ormai da giorni telecamere e più controlli mentre il cimitero degli animali rischia l'abbandono sempre dal Carlino l'appello di Andrea Marchioni della Lega per la struttura di Santa Veneranda l'associazione che se ne occupa non vuole più proseguire poi il bel gesto di una persona che ha trovato un astuccio con dentro 800 euro e al posto di tenerli li ha riconsegnati e quindi ha trovato in strada col bordolo un astuccio con dentro questi soldi in contanti all'interno c'era anche una fattura commerciale con il nome della intestataria e questo ha permesso a Marco Lapi di Morciola bravo di contattare la proprietaria del luogo e riconsegnare l'astuccio con il denaro erano i soldi dice della pensione di mia mamma che avevo appena ritirato alle poste e siamo un po' tutti distratti questo è vero abbiamo tutti la testa ieri mi è capitato mentre lavavo la macchina di assistere di una donna che aveva appena fatto la benzina poi prese partita con la pompa la pistola della pompa ancora attaccata alla macchina vi potete immaginare siamo un po' tutti con la testa per aria il periodo è questo c'è poco da fare i pensieri che affollano la nostra mente sono tantissimi andiamo a vedere qualche pensiero in più ce l'avrà sicuramente anche il sindaco di Fano Massimo Seri per questa questione della fusione con marche multiservizi il sindaco adesso si dice possibilista confrontiamoci su dati reali scenari aperti in maggioranza per Aset e variante di Gimarra Seri però chiede concretezza la prossima riunione a fine mese sarà allargata anche ai consiglieri comunali si parla di strategia provinciale con il coprifuoco intanto apertura apertura serale impossibili per la Presidente di Commercio contro il limite delle 22 che penalizza i negozianti poi su Fano invece il Carlino Aset pronta a vaccinare i suoi 300 dipendenti il Presidente Paolo Reginelli dice abbiamo i locali e il personale compreso il medico del lavoro il tutto sarà ovviamente su base volontaria e questa invece l'altra pagina del Carlino di Fano Fano Urbino a maggio lo studio di Rete Ferrovie italiane per la metà del prossimo mese dice la sottosegretaria Rossella Accoto dovrebbero essere disponibili costi indicativi per rimettere in funzione il treno sono stati stanziati un milione di euro circa due anni fa l'analisi riguarderà solo però il convoglio turistico poi un polo museale per la cultura quello che stanno tentando di mettere in piedi la diocesi di Fano con la fondazione Cassa del Spanio e con il comune si partirà con il lancio di un'immagine coordinata capace di indirizzare con una biglietteria unica il fruitore verso l'accesso del patrimonio culturale fanese poi sulla nube a Bellocchi invece dopo l'incendio alla Profilglas nessun rischio per la popolazione e i residenti lì vicini ospedale a case bruciate quello che dovrebbe sostituire l'ospedale unico Fano Pesero ora tocca a Ricci la regione ha fatto la prima mossa ma serve la variante urbanistica il sindaco deve decidere se dire sì oppure no per ora silenzio assoluto vediamo se lunedì sera romperà questo silenzio intanto ha annunciato sempre Ricci da Pesero una ruota panoramica al posto della rotatoria di piazzale d'annunzio ecco l'immagine iniziati i lavori per smantellare la rotatoria il sindaco annuncia questo accordo con un privato per l'installazione di questa ruota panoramica partito l'intervento di pedonalizzazione di Viale Trieste nel tratto di Levante poi riapriamo invece e qui andiamo a Cagli riapriamo la via che costeggia le mura l'ex assessore Fabrizio Volpi sollecita il comune ritorni transitabile dice lui ridiamo un po' di decoro a questo tratto del centro del centro cittadino poi c'è questa invece immagine da Senigallia sul carlino del frattino senigalliese il raro anzi frattino senigalliese che nidifica sull'Adriatico l'esemplare nato sulla spiaggia di Velluto nel 2015 ora si è spostato a Pineto abbiamo trovato tre uova e abbiamo subito protetto l'area per salvaguardarlo poi due senigalliesi anzi biglietti fantasma per i concerti denunciato truffatore seriale due senigalliesi avevano già pagato 220 euro prove d'estate riaprono i locali sul lungomare di Senigallia anche a Ponente spuntano Pale e i primi lettini per i primi temerari i primi bagnanti chiudiamo con questa pagina dedicata allo sport in particolare alla Lube la Lube macerata che la Lube Civitanova scusate che gioca il match bolla alle 18 all'eurosuole forum di Civitanova in diretta tv ma sempre a porte chiuse i biancorossi contro Perugia in gara 4 partono dal 2 a 1 noi ci fermiamo qui è tutto per l'informazione stasera c'è 7 per occhio con l'appuntamento il magazine con le notizie più importanti della settimana la rassegna il commento alla stampa invece torna lunedì mattina puntuali alle 7 a voi tutti l'augurio di un buon fine settimana grazie a tutti